A tu per tu, interviste e opinioni a cura di RWS. Amiche e amici in ascolto, ben trovati, mancano pochi giorni per il Natale, un Natale quest'anno certamente diverso, molto più complesso, molto più complicato, per qualcuno forse non è davvero Natale, non è Natale se non possiamo ritrovarci con tutti i nostri parenti, fare le grandi tavolate, grandi cene e magari con tanti regali. Quest'anno sarà più complicata, però soprattutto come cristiani credo che dobbiamo cercare di capire che cosa possiamo conservare di questa festività, quali sono i valori in gioco e ne parliamo con il pastore della Chiesa Protestante Unita, Andrea Panerini. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di RWS. Ecco, allora faremo questo tentativo anche con l'aiuto di una serie di interviste che sono state realizzate da Florence TV, web tv della città metropolitana di Firenze, dal titolo Natale secondo me 2020. Allora io direi Andrea, ascoltiamo una prima parte di queste brevi interviste e poi le commentiamo insieme oppure prendiamo spunto semplicemente per riflettere sul senso del Natale ancora adesso. Il Natale secondo me sarà come le foglie al vento, volerà via e non ce ne ricorderemo. Invece questo sarà un Natale speciale, sarà un Natale di solitudine e ce lo ricorderemo, ci ricorderemo anche di chi è sempre solo. Per me il Natale quest'anno è qualcosa di nuovo. Io ho sentito, sto sentendo perché poi il Natale in realtà si sta avvicinando, innanzitutto il bisogno di trovarne l'essenza. Istintivamente sento anche un rifiuto per esempio verso certe abitudini e consuetudini che prima sembravano normali, quindi ritrovi numerosi, gli scambi di doni materiali eccetera. Io penso che quest'anno per me sarà un Natale più alla ricerca dell'essenza, del valore, quindi cercherò personalmente di ritrovare quegli elementi di rinascita, quegli elementi che proprio stanno alla base dell'essenza della vita. Spero di avere la possibilità di attraversare con chi amo, con chi mi sta intorno, con la famiglia, questo momento come un'occasione di riscoperta l'uno dell'altro. Spero che il regalo più grande quest'anno possa essere questo, di ritrovarci e rivederci in una maniera nuova. Leggo la poesia cronaca, tratta da una raccolta di poesie di qualche anno fa, e l'autore e l'autrice è Maria Angela Giusti. Leggo. Ecco, allo snodo del sottopassaggio, lo spettro di un uomo accasciato, dormiva, o forse se ne stava morendo, col viso appoggiato al muro, le gambe ripiegate sotto e le mani ciondolone, un cappotto vecchio degli anni della guerra. Ognuno di noi passava, non elargiva doni, né spiccioli, né parole. Non portava né incenso, né mirra, né formaggi, né latte, né miele. Ognuno aveva il suo genere di fretta. Lui se ne stava senza speranze, occhi chiusi, in mezzo alle gomme attaccate, alle cicche e agli sputi. Natale. Ecco, noi abbiamo ascoltato una prima parte delle interviste rese disponibili da Flores TV, web tv della città metropolitana di Firenze, per raccontare, grazie ai contributi vocali di cittadini e cittadine, le nostre sensazioni sul Natale. Ricordo che siamo con Andrea Panerini. Andrea, ecco, un tuo commento. Intanto da queste interviste è evidente che il Natale non ha niente o poco a che fare con la narrazione evangelica. Non si parla affatto di questa vicenda di Gesù che entra nella storia. È una cosa diversa. Ecco, questo ti sorprende innanzitutto? No, non mi sorprende affatto perché comunque negli ultimi decenni anche nel nostro paese la narrazione del Natale ha ben avuto poco a che fare con la religione cristiana. Il che però è paradossale, perché insomma comunque parte e inizia come una festa assolutamente religiosa e lo è ancora per tante persone, per carità. Però insomma, così, semplicemente con un campione casuale abbiamo visto che questo non è più così, ecco. Possiamo dire che è una rivincita della storia, soprattutto a livello della data, perché non scordiamoci mai che è vero che la Natale, l'incarnazione di Nostro Signore è una festa religiosa, ma la scelta del 25 dicembre è per cristianizzare una festa pagana, quella del Dio Sole. Quindi ben poco a che fare con il Natale cristiano in realtà. Un'altra cosa che io almeno colgo da queste interviste è una certa contraddittorietà nei sentimenti, questo è normale, non c'è niente di strano, come foglia al vento, il Natale diciamo visto in maniera un po' malinconica, ecco, questo è una delle tante occasioni che ci passano accanto, ma alla fine non sono importanti davvero nel calendario della nostra vita, ecco, questo è la prima, forse il primo riferimento. E poi ecco, c'è chi invece è speranzoso, che occasioni come queste ci aiutano a ricordarci di chi è solo. E d'altra parte, invece, l'ultima testimonianza è quella invece del Natale, come un uomo accasciato, a cui passano accanto tante persone, ognuno ha il suo genere di fretta. Per te cos'è il Natale? Tra queste testimonianze qual è quella che cogli come più vicina a te, insomma? Sicuramente il Natale è un momento sia di condivisione, dovrebbe essere almeno, sia dall'altro lato un momento di raccoglimento. Io capisco questi sentimenti anche di depressione collettiva, perché chiaramente abbiamo affrontato un anno molto difficile. Da un punto di vista cristiano, tuttavia, è necessario essere chiari sul significato del Natale, che non è chiaramente solo l'aspetto sociale, la scusa per riunire le famiglie, ma è soprattutto l'incarnazione del Signore, che dovrà poi passare la sua passione, la morte e la risurrezione per la nostra salvezza. Non è solo questo sentimento popolare con Gesù bambino e questa tenerezza più o meno sincera. Tra l'altro, anche nel racconto evangelico, la tenerezza che pure c'è, si accompagna a una situazione drammatica. Cioè, insomma, il Dio che incontra l'umanità in Gesù Cristo nasce in una situazione di grande precarietà sociale, la mangiatoia, ecco. E, tra l'altro, prestissimo diventa un profugo politico, perché deve scappare in Egitto, altrimenti viene immediatamente fatto fuori dal potente di turno. Ecco, questo credo che forse è un aspetto non sufficientemente enfatizzato, oppure no? Non so, magari è una mia impressione solamente. No, sicuramente è un aspetto che ci dovrebbe far riflettere sui nostri tempi, che spesso non viene valorizzato nel discorso religioso. Il fatto, appunto, che Gesù nasca in una situazione socialmente precaria, quindi di ingiustizia sociale fondamentalmente, che poi venga appunto perseguitato, che lui stesso sia un rifugiato, un migrante. Ecco, questo anche nel discorso politico contemporaneo non è sufficientemente valorizzato. Nell'ultima settimana abbiamo sentito un sacco di discorso a sproposito anche sul fatto di far nascere Gesù il bambino qualche ora prima, qualche ora dopo, che è un polemico abbastanza stucchevole e che non corrisponde realmente al significato del Natale. Sì, non coglie il senso del Natale, di sicuro. Non coglie. Ecco, a proposito del senso o dell'essenza, abbiamo sentito una testimonianza di una signora che diceva che bisogna trovare l'essenza, quindi lei lo vede nel rifiuto delle consuetudini e nel cogliere l'idea della rinascita. Ecco, c'è la possibilità di una rinascita? Questa è un'espressione, tra l'altro, che ha anche un forte valore religioso, insomma. Sì, anche se dobbiamo dire che nell'anno liturgico di tutte le chiese cristiane l'idea della rinascita è più legata alla Pasqua, che non è nasale, questo va detto. Però capisco i sentimenti anche degli intervistati per quanto riguarda questa spiccata rinascita, cioè mettersi alle spalle questo anno veramente terribile e cercare di superare tutte le conseguenze anche di questa pandemia. Comunque avranno degli strasci anche sociali, economici. Importanti. Purtroppo per molto tempo, credo. Allora, io direi, Andrea, ascoltiamo l'ultima tranche di queste interviste, anche queste molto brevi e poi concluderemo il nostro commento, il nostro spunto per una riflessione sul Natale. Quest'anno il Natale non sarà come l'anno scorso, che andremo a trovare i nonni, che andremo a trovare le zii. Cioè, forse ci potremo andare, ma non dandoci gli abbracci, dandoci i baci. Comunque, però, speriamo che quest'anno andrà tutto bene e che i contagi si abbasseranno. Buon Natale! Buon Natale sarà diverso, ma io ugualmente aspetto Babbo Natale e non vedo l'ora di mandare i torsellini in brodo con la mia famiglia. Sarà un po' meno bello, però almeno un pochino ci divertiremo. Ciao! Buon Natale! Allora, il Natale, secondo me, quest'anno sarà l'occasione per stare tutti quanti insieme, parenti, amici, magari invitare anche quelle persone che non hanno come festeggiare il Natale. Quelle tavolate di 20-30 persone, tutti insieme, tutti accomunati, e festeggiare... Ah, ma è il 2020 ora? Ah, vabbè. Allora consideratelo questo messaggio per l'anno prossimo, il 2021. Auguri di buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Contributi vocali di cittadini e cittadine, le nostre sensazioni sul Natale. Siamo insieme ad Andrea Panerini, pastore della Chiesa Protestante Unita. E allora, insomma, i bambini... Beh, insomma, i bambini sono sempre appropriati per queste testimonianze, perché sono veramente quelli che parlano con il cuore. Però mi ha impressionato una bambina che ha detto speriamo che i contagi si abbasseranno. Questa è un'espressione assolutamente poco infantile. È un segno dei tempi, per certi aspetti. Che ne pensi, Andrea? Certo, un segno dei tempi, un'infanzia che deve misurarsi con un mondo profondamente diverso da quello che abbiamo dovuto affrontare noi da bambini. Sia per il progresso tecnologico, sia perché appunto le nostre generazioni sono generazioni che avevano sicuramente pensato e sperato di non dover più affrontare epidemie e emergenze di questo tipo. C'era stata l'illusione che attraverso i farmaci, i antibiotici, i vaccini, che per alcuni anni, e questo è stato vero, pensiamo per esempio al sostanziale debellamento della poliomilite, per esempio, o al vaiolo che è stato eradicato ormai diversi anni fa. Quindi c'era stata anche questa, come dicevano i greci, questa ibris, un po' questa sensazione dell'uomo di aver vinto la natura e di poter condizionare anche la sfera del sacro, un po' questa anche megalomania dell'uomo, di questo controllo scientifico. Purtroppo invece gli elementi poi si sono scatenati. Niente abbracciato. Questo è l'aspetto veramente più difficile, veramente l'aspetto più difficile perché l'essere umano, nonostante anche negli ultimi anni, ci siano identificati i fenomeni di questa socialità a distanza, pensiamo a social media, pensiamo a Whatsapp, pensiamo a tutti questi strumenti. Se comunque l'essere umano rimane un animale sociale che ha bisogno del contatto anche fisico con gli altri, sia a livello di relazioni amicali, sia a livello di relazioni amorose, erotiche. Quindi l'essere umano, l'uomo e la donna sono animali sociali. Il Signore così ci ha fatto. Nella Bibbia ci sono tanti esempi di come sia importante questa socialità proprio fisica. E quindi questo è un aspetto veramente che ci condiziona ormai da mesi e in una festività sociale come il Natale diventa ancora più evidente e importante. Senti, però i tortellini in brodo, quelli non ce li toglie nessuno? No? Cosa mangerai a Natale? L'hai già preparata questa lista? Chi se ne può permettere? Certo, non mancheranno. Ma io personalmente credo che farò due brasati. Uno di manzo, che è una ricetta lunga e complessa, uno di manzo per me e altre persone e un altro di seitan, per la mia inquilina, che è vegetariano-vegana. Ecco, quindi... gli animalistici, quindi... Non fai infuriare, diciamo, gli animalisti, perlomeno, insomma, non i mali a portare. No, secondo me c'è una libertà e una pluralità che va rispettata anche in questo, sì, certo. Allora, Andrea Panerini, io ti ringrazio per questa tua testimonianza, per quel che riguarda il commento anche sul Natale 2020, un Natale che abbiamo detto sarà diverso, tra l'altro, appunto, proprio in queste ore si sta decidendo una stretta ulteriore per quel che riguarda i provvedimenti per prevenire, appunto, ulteriori contagi del Covid. Qualcuno si può chiedere, magari, come si concilia, diciamo, una situazione di malattia che colpisce casualmente, brutti e belli, colpevoli e innocenti, con l'idea della provvidenza di Dio che il Natale vorrebbe sottolineare. Ecco. Io penso che questa pandemia sia stata provocata dall'uomo stesso, in realtà, perché ormai è acclarato che è attraverso una manipolazione e un spostamento dei confini dell'umanità rispetto al creato che si sono scatenate queste forze che hanno portato alla pandemia, quindi a questo nuovo virus che è poi passato dal mondo animale, selvatico, al mondo umano. Quindi, almeno in questo caso, dobbiamo fare il mea culpa, insomma. Ma troppo spesso diamo colpa a Dio di ciò che invece è colpa dell'uomo. È un fatto normale, soprattutto nel dolore, però bisogna anche avere l'onestà di riconoscere quando, appunto, una cosa è veramente inspiegabile, quando, in verità, si può spiegare anche scientificamente e la colpa è dell'uomo. In questo caso è la seconda opzione, perché ormai è appunto acclarato che il contagio, il passaggio tra le specie di questo virus è successo perché in alcuni paesi l'essere umano commercia in animali selvatici vivi, per esempio, che è un fatto che non è neanche previsto in realtà profondamente dalla Bibbia come un uso lecito degli animali perché la Bibbia ci dice che l'uso lecito degli animali è strettamente legato alla nostra sopravvivenza e non per semplice divertimento o per interessi economici ulteriori. Se mi permetti, vorrei salutarvi leggendo brevemente i versi del grande poeta italiano che è Giuseppe Ungaretti sul Natale che credo corrispondano molto al sentimento collettivo in questi giorni. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. Poesie che fanno riflettere. Grazie allora al pastore Andrea Panerini, pastore della Chiesa Protestante Unita e a risentirci una prossima occasione. Naturalmente un buon Natale a te e a tutti i tuoi affetti. Buon Natale a te e a tutti i radioscoltatori di RWS. Abbiamo trasmesso a Tu per Tu interviste e opinioni a cura di RWS.